Interessante, siamo qui a Santa Croce dove ho avuto l'orgoglio e l'onore di realizzare per gli abitanti di Santa Croce un borgo carsico che ci tenga in maniera particolare, il restauro della chiesetta di San Rocco. Una cosa fatta molto bene, con grande condivisione della popolazione. Però siamo stati attaccati in maniera incredibile dalla Presidente della circoscrizione tale Mai Attenze e dal Vice Presidente Paolo Vidoni. Allora innanzitutto nella vita è importante quello che si fa, non apparire, perché poi appari naturalmente se fai le cose. È stato molto condiviso dalla popolazione questo lavoro. E a questo punto questi due signori in maniera veramente bugiarda e vile mi hanno accusato che hanno fatto tutto loro. Allora siccome nella pubblica amministrazione si lavora per atti, questi sono gli atti, questa è la delibera, udite udite. Allora quello che loro avevano fatto era la deliberazione giuntale del 9 del 12 del 2015 è stato approvato il progetto preliminare, cioè stiamo parlando di niente, di uno schema. E poi udite udite, al 31 del 5 del 2016 era stato messo, pensate a pochi giorni dalle elezioni, sul piano delle opere. Finito. L'amministrazione precedente non ha fatto nulla. A questo punto arriviamo noi negli anni successivi a 21 del 3 del 20 del 12 del 16, al 21 del 3 del 17 e vado avanti con le date al 14 del 17, al 29 del 6 del 17. Vengono fatti tutte le progettazioni esecutive, le gare e poi la realizzazione. E poi siamo arrivati alla inaugurazione, ho fatto una conferenza stampa dove la mai attenza in maniera vile mi ha attaccato in maniera incredibile dicendo che ne ho fatto tutto l'oro, una bugia gigantesca e udite udite Paolo Vidoni durante la messa che c'era al Vescovo e dove il sindaco non ha parlato per rispetto al Vescovo lo ha interrotto prima dell'inizio della cerimonia e ha parlato per mezz'ora leggendo tre pagine di insulti. Ma queste persone dove credono di essere? La gente non è stupida, la gente vede i cinque anni che avete governato, perché non avete fatto la chiesetta e l'ho inaugurata io dopo tre anni e mezzo e la gente ha capito che ci ho messo tre anni e mezzo per realizzare il tutto. Per cui siete vili sotto il punto di vista delle bugie e politicamente scorretti. Grazie a tutti.